La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta dopo la morte della neonata di due mesi all'ospedale di Desenzano del Garda. Brescia baciata ancora dalla fortuna, il biglietto della lotteria da un milione e mezzo è stato venduto a Roncadelli. Numeri da record per Fondazione Brescia Musei nell'anno di Capitale della Cultura, l'obiettivo ora è di continuare così. La Germani chiude le feste con una sconfitta a Brindisi ma mantiene comunque il secondo posto in classifica. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Una buona sera dalla redazione di live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che come avete sentito dai titoli si apre con la cronaca con una notizia tragica che arriva da Desenzano del Garda dove sabato è morta una bimba, una neonata di appena due mesi. La procura di Brescia ha deciso di aprire un'inchiesta per il momento senza indagati. Non ce l'ha fatta. Una bimba di appena due mesi ha perso la vita a causa di una bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che di queste settimane sta avendo il suo picco in Italia. La piccola, secondo quanto riferito dall'agenzia ANS, si è spenta nel reparto di pediatria dell'ospedale di Desenzano del Garda nella giornata di sabato. Viveva in provincia di Mantua con i suoi genitori di origini rumene. Da giorni, secondo quanto ricostruito, la bimba accusava difficoltà respiratorie che sabato scorso sono peggiorate in un breve lasso di tempo. Quando è arrivata in ospedale era ormai in condizioni disperate. Sono stati disposti gli accertamenti per confermare la diagnosi dei medici del reparto. Notizie di ben altro tenore, Lotteria Italia che ha baciato Brescia, forse un bresciano perché non si sa chi sia il vincitore, la persona che alle rondinelle ha acquistato un tagliando negli scorsi mesi, nelle scorse settivane, si è giudicata il premio pensate di un milione e mezzo di euro. Noi siamo stati alle rondinelle a Roncadelle, abbiamo parlato con la titolare del tabacchi, cosa ci ha detto? Al centro commerciale Roncadelle quindi vinti un milione e mezzo, la bella soddisfazione. Direi proprio che chi l'ha comprato sarà veramente contento. Inizia bene il 2024. Esatto, direi alla grande. Qualche idea? Assolutamente nessuna, assolutamente, anche perché qua c'è tanta gente anche di passaggio per cui è un po' impossibile capire chi l'ha acquistato. Come è stato l'interesse verso la Lotteria Italia? Ah buono, c'è stata una bella richiesta quest'anno, sì. Superiore agli altri anni? Secondo me sì, almeno un 10% in più tranquillamente. Nessuno si è fatto vivo? No, assolutamente no e penso che se ne vedranno bene da farsi vedere. Magari un regalo? Eh speriamo, speriamo, dai. Che ci pensi? Torniamo ora in città, ormai da qualche settimana abbiamo detto addio all'anno di Capitale della Cultura. Ha concluso questo anno speciale per la nostra Brescia, è il momento di un bilancio, in questa volta anche definitivo su quelli che sono stati i numeri. Si sentiremo da record per Fondazione Brescia Musei che significa sì i siti museali della nostra città ma anche tutto ciò che vi sta intorno, quindi quelle che sono le mostre temporanee e le iniziative. Allora sentiamo un primissimo bilancio con il direttore di Brescia Musei Stefano Carassov e con la Presidente Francesca Bazzoli. Quasi 320 mila visitatori ai musei e oltre 110 mila le mostre, quasi 6 mila gruppi a cui aggiungiamo anche i 140 mila visitatori scarsi della mostra dedicata a Ceruti a Los Angeles, insomma numeri a dir poco straordinari che dovremo confermare nel 2024, però come sempre la cultura si basa anche sul passaparola. C'è stato un museo o una mostra che vi ha sorpreso particolarmente? Il superamento dei 200 mila visitatori al Polo Unesco Brixia Parco Archeologico e Museo di Santa Giulia, il circa 30 mila visitatori in più al Polo del Castello generati dal nuovo Museo del Risorgimento e il superamento della soglia psicologica dei 40 mila visitatori alla Pinacoteca Tosio Martinengo che cinque anni fa quando fu riaperta raggiunse i 30 mila, ora siamo a 42 mila. Vi aspettavate questi numeri? No, in questa dimensione oggettivamente no, ovviamente speravamo un grande successo, è stato molto al di là delle aspettative, basti considerare appunto che la media degli incrementi dei visitatori per le precedenti città capitale italiana della cultura era del 20%, da noi rispetto ovviamente all'anno di riferimento pieno che è il 2019 è stato del 40%, quindi un grandissimo successo, che credo raccolga e certifichi il lavoro che questa città ha compiuto sul suo patrimonio negli ultimi dieci anni sicuramente, ma anche negli ultimi 40 anni, da quando in modo visionario è stato immaginato il rifacimento del Museo di Santa Giulia e da lì tutto il resto e quindi raccogliamo tantissimo lavoro e raccogliamo i frutti anche di un sistema di governo dei musei della città, affidati dal Comune alla Fondazione, capace di interconnettersi con tutta la società bresciana, che credo siano anche un altro fattore discriminante veramente importante del successo che quest'anno abbiamo raccolto. Prima di ascoltare anche il commento inevitabilmente soddisfatto della Sindaca Laura Castelletti vi voglio portare per qualche istante sul nostro quotidiano online, livebrescia.tv, perché proprio durante la conferenza stampa in cui sono stati presentati questi dati è stato anche fatto un annuncio che riguarda proprio il direttore Stefano Karajoff, che come vedete dal nostro titolo rimarrà a Brescia, rimarrà direttore di Fondazione Brescia Musei anche per il prossimo quinquennio, dopo questo anno dei record è arrivata appunto la conferma per altri cinque anni, Karajoff è a Brescia dal 2019, ma il suo curriculum ovviamente non si limita alla nostra città, infatti ha curato il programma ad esempio del Carnevale di Venezia ed è anche stato direttore di progetti sviluppo per la Civica 3 Venezia, inoltre ha avuto in carichi a due diversi expo, quello di Milano del 2015, ad esempio dove si è occupato del controllo della gestione e budget del padiglione zero, e quello di Shanghai in cui è lavorato per conto della triennale di Milano. Come promesso ora ascoltiamo invece le parole della Sindaca Laura Castelletti proprio a commento di questi dati da record dei Musei Bresciani. Abbiamo avuto dei risultati straordinari di presenza non solo all'interno dei musei, ma soprattutto delle attività che sono state proposte su più di un milione e cento di fruitori di offerta culturale fatta di mostre, performance, laboratori e certamente non è solo quindi un accendere i riflettori sulla città, ma è davvero un affare cultura capace di coinvolgere, di rendere tutti i protagonisti. Soprattutto importanti sono i lasciti, perché non solo il Museo del Risorgimento, ma il sito UNESCO, anche la sezione romana all'interno del Museo di Santa Giulia, quindi la possibilità di lasciare davvero alla città tante opportunità per continuare a fare cultura. Che ruolo ha svolto la gratuità? Ha svolto un ruolo importante nel 2023, avevamo deciso di utilizzarla come uno strumento per avvicinare sempre di più i nostri cittadini bresciani e bresciane al loro patrimonio. Abbiamo visto che uno su quattro ha visitato i musei e quindi abbiamo scelto di mantenere la gratuità anche per i prossimi cinque anni. Voltiamo pagina, torniamo sul lago di Garda, torniamo ad occuparci della strada della forra e della situazione, nelle ultime settimane sempre più difficile anche relativa alla viabilità, alle numerose frane, polemiche che in realtà montano già da diverso tempo e tra l'altro il prossimo sabato a Salò è stato organizzato un incontro proprio per sensibilizzare contro quella che è la grande opera della ciclovia del Garda. Sta di fatto che per il momento la strada della forra rimane chiusa, lo sarà a tempo indeterminato, le incognite sono davvero tantissime. La strada della forra è chiusa dopo l'enorme frana dello scorso dicembre e il timore è che lo resti per moltissimo tempo, un po' come accaduto nel 2020. La celebre strada, che nel 2023 ha compiuto il secolo di vita, non è solo un'infrastruttura viaria, ma per Tremosine è anche una straordinaria attrazione turistica, non l'unica però, almeno stando alla proloco del comune gardesano, che in una lunga nota ha voluto ribadire la bellezza del proprio territorio, al di là della praticabilità della strada. Tremosine è composta da un insieme di tanti gioielli preziosi che la rendono unica, ha fatto sapere la presidente dell'associazione, Francesca Frigerio. Possiamo offrire lago e montagna all'interno della stessa vacanza, abbiamo 18 piccoli borghi pronte ad accogliere i visitatori. La visita dei nostri territori è un incanto, Tremosine è e resta una meraviglia. Per mitigare l'impatto della chiusura sono state proposte alcune misure come la riapertura pedonale e ciclabile del tratto, che dal ristorante Forra giunge al ponte romano con la cascatella, oltre al posizionamento di una chiara segnaletica. Torniamo in città, in particolare al villaggio prealpino, con la denuncia arrivata sui canali social del Consiglio di Quartiere. Si tratta dell'ennesimo, in realtà atto vandalico, succedono un po' macchia di leopardo in vari quartieri di Brescia, quelle che sono le cosiddette biblioteche a cielo aperto, quelle che sono le casette del book crossing. In questo caso pare che dei ragazzini si siano divertiti a bruciare questi libri. Non è purtroppo la prima volta che accadono fatti simili. A più riprese è stata a bersaglio dei vandali la piccola biblioteca a cielo aperto degli amici dei parchi nel quartiere Sant'Eustachio, mentre poco più di un anno fa era toccato alla casetta del book crossing a San Polino, i cui libri erano stati bruciati. E lo stesso destino è toccato ai volumi messi a disposizione di tutti in un altro quartiere di Brescia, il prealpino. A denunciare il fatto è stato il Consiglio di Quartiere con uno sconsolato post pubblicato su Facebook, con tanto di fotografia dei libri in fiamme fra i piedi di alcuni ragazzini. Purtroppo la noia di alcuni ragazzi nel nostro quartiere ha fatto fare una triste fine al viaggio dei libri messi a disposizione nella casetta di book crossing Sita nel parco di Via Nona all'annuncio social. Tanta la rabbia anche da parte dei residenti, di chi quei libri benvolentieri li sfruttava. E come sempre si apre una pagina enorme del nostro tempo, qual è il disagio giovanile, più volte assurdo agli onori o meglio disonori delle cronache per eventi più o meno gravi. Se solo avessero la curiosità di leggerli non si annovierebbero sicuramente e diventerebbero grandi viaggiatori e sognatori, concludono dal Consiglio di Quartiere. E tutta la nostra comunità ne avrebbe beneficio. L'economia con un'altra in realtà brutta notizia per gli automobilisti, perché dopo il rincaro dei pedaggi autostradali ce n'è un altro e quello delle assicurazioni. Brutte notizie per oltre 130.000 automobilisti lombardi. Secondo l'osservatorio di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell'RC Auto. A livello regionale, il 2,49% degli automobilisti lombardi ha dichiarato un incidente con colpa percentuale che risulta essere più alta rispetto a quella nazionale, 2,33%. Sondrio è la provincia lombarda che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che hanno denunciato un sinistro con colpa, mentre Cremona è la più virtuosa. La nostra Brescia, invece, sta nel mezzo con una percentuale di 2,46. Ma anche per gli automobilisti virtuosi, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe RC Auto continuano a crescere. A dicembre, infatti, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Lombardia, occorrevano in media 503,48 euro, vale a dire il 38,1% in più rispetto a 12 mesi prima. A Brescia, questo aumento è stato leggermente superiore alla media, 39,3%. La media delle migliori RC Auto era di 503,79 euro, superiore di una trentina di centesimi rispetto alla media lombarda, ma decisamente inferiore rispetto ai 618,55 di quella nazionale. Dopo una brutta notizia economica, una invece timidamente positiva, che riguarda l'inflazione. Rallenta l'inflazione nel 2023. Nella media dell'anno che si è appena concluso, i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7% rispetto all'8,1% che era stato raggiunto nel 2022. Lo rende noto l'Istat. Secondo le stimme preliminari, a dicembre 2023, l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Il rallentamento dell'inflazione è legato soprattutto al venir meno delle tensioni sui prezzi dell'energia, mentre per i beni alimentari la tendenza invece è ancora al rincaro. Sul fronte dei conti pubblici, nel terzo trimestre 2023 il rapporto deficit-PIL è sceso al 5% rispetto al 9,4% dello stesso periodo dell'anno precedente. La pressione fiscale è stata pari al 41,2%, in lieve calo di 0,2 punti percentuali. Cresce il reddito disponibile delle famiglie, aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,2%. Rispetto al trimestre precedente, crescono anche la propensione al risparmio e il potere d'acquisto delle famiglie. Prima di passare allo sport, uno sguardo anche al tempo 3B Meteo per scoprire come sarà questa settimana. Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite, ci mostrano tante nuvole sull'Italia, eccole qua. Sono associata a un centro di bassa pressione che si è posizionato proprio sul nostro paese e che tra l'altro sta convogliando anche aria fredda sulle nostre regioni, certe giornate con temperature contenute. Nulla di eccezionale, ma un po' di freddino si farà sentire. Ma andiamo a vedere come sarà questa settimana partendo dalla situazione attuale con quest'area di bassa pressione che piano piano si muove verso la Grecia nel corso della giornata di martedì e ancor più mercoledì. Quindi ancora molta variabilità al sud, temperature diciamo bassine, ma si va verso un graduale miglioramento. Però attenzione, in realtà tra il 10 e l'11 di gennaio, nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, gli andrà a interessare principalmente il centro sud, sfiorando le regioni di nord-ovest, con temperature che magari riusciranno a riguadagnare qualche grado, ma ci mancheremo sempre su valori piuttosto invernali. Per quanto riguarda poi il fine settimana, ecco, avremo ancora correnti fredde su Italia, quindi weekend freddino, ma con fenomeni principalmente nelle estreme regioni meridionali e sul medio adriatico, mentre nel resto del paese pressione atmosferica in temporaneo aumento. Ma per vedere nelle vostre zone cosa capiterà, consultate l'app gratuita di 3D Meteo. Ci prendiamo una manciata di secondi di pausa, davvero pochissimi, ma torniamo subito con lo sport. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi tre mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito tre mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa a Brescia Store di Via 10 Giornate 85, Via Solferino 51 e all'interno di OBI Elettronica in Via Genova 4. Buonasera agli amici sportivi di e-live. C'è il basket in primo piano con una palacanestro Brescia che purtroppo ha chiuso le feste e anche il gerone di andata con una sconfitta rimediata a Brindisi, fanalino di coda della classifica. Classifica che però vede ancora a Brescia al secondo posto complici le sconfitte di Venezia e della Virtus Bologna. Un fatto sì positivo che però lascia un po' da mare in bocca. La Germani stecca e manca l'acuto finale nel girone d'andata perdendo contro il fanalino di coda Epicasa Brindisi. Una sconfitta che, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, non compromette il secondo posto in classifica. Se invece vogliamo guardare quello mezzo vuoto lascia la mare in bocca perché perdono anche Venezia e Virtus Bologna. Vince l'Epicasa 88 a 79 in una gara in cui Brescia prova fin da subito e come suo solito a pigiare sull'acceleratore e ci riesce pure, toccando il più 9 nel primo quarto. Dall'altro lato c'è però uno snid incontenibile, 28 punti alla sirena, che con un parzialone di 8 a 0 rimette i padroni di casa in partita e così sarà fino al termine. La Germani lotta e così fa anche Brindisi, punto a punto e vantaggi minimi o quasi. Alla pausa lunga il buzzer-bitter di Morris vale il più 1 Epicasa 41 a 40. La ripresa è inaugurata da Della Valle con una tripla ma è un fuoco di paglia. Bilan prova a trascinare i suoi ma i 20 punti a referto non bastano. Si accende anche il nuovo arrivo Bartley, nel primo tempo inconsistente se non dannoso, e i due punti rimangono in Puglia. Detto ciò la classifica è cristallizzata, alla luce dei risultati negativi delle dirette competitor. Questo significa che Brescia disputerà le Final 8 di Coppa Italia da seconda, in un accoppiamento insidioso contro Napoli. In attesa di febbraio c'è però da rialzare subito la testa in campionato, partendo già dal prossimo weekend con Treviso in casa. E ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie l'Atlanti de Palavolo-Brescia per riuscire ad avere la meglio in casa contro Pineto. Partita finita al tiebreak e quindi due punti comunque importantissimi per i Tucani. Ascoltiamo Capitanti Berti e Cominetti. È stata una partita dai due volti, abbiamo fatto tre set buoni di contro, primo set bruttissimo, il terzo un po' nervoso. Quindi alla fine sono due buoni punti perché in questo campionato non c'è mai nulla di scontato e a un certo punto sembrava potessimo non farne neanche uno. Quindi va bene così e di sicuro possiamo migliorare molte cose, però oggi di fronte a una squadra che ha giocato spavalda e ha giocato bene perché comunque è una squadra che ha dimostrato di avere dei buoni mezzi. Va bene così. Noi dobbiamo sfruttare un po' nel giorno di ritorno il calendario che ci fa giocare di più in casa. Di sicuro non possiamo approcciare la partita come oggi, tanto più in casa perché abbiamo perso un primo set malissimo. Quindi dobbiamo essere bravi a spunto a sfruttare San Filippo. L'obiettivo è quello di vincere chiaramente tutte le partite. L'intenzione è sempre quella, però facciamo i conti con l'avversario e soprattutto impariamo oggi che non c'è un avversario che parte battuto. È una squadra rognosa che con la ricezione positiva gioca molto bene. Quindi noi nei due set che abbiamo perso abbiamo battuto male. Ormai la pallavolo moderna è battuta a ricezione e chi batte meglio ha più facilità per poi breccare e vincere sette le partite. Siamo contenti di aver vinto. Ci tenevamo. È importante anche perché nella giornata odierna ci sono due scontri ai vertici della classifica. È importante accorciare e non farci sfuggere l'occasione. Quindi bene, siamo contenti. Adesso testa alla prossima contro Porto Vigo. Il telegiornale termina qui ma come sempre tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento su lebriscia.tv, il nostro quotidiano online sul quale trovate anche la diretta in streaming di Live e i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram e se volete anche al nostro canale WhatsApp e rimanere così informati con una semplice e comoda notifica. Grazie per averci seguito. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e a presto. Grazie a tutti.